Dal Vangelo secondo Marco Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie Gesù rispose loro Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla Una buona domenica a tutti In nessun altro campo come in quello dell'etica sessuale l'uomo è tentato di darsi la propria morale Oggi lo vediamo a livello dei media Si sostiene che ognuno ha il diritto di esercitare il sesso dove, come, con chi preferisce basta che le persone coinvolte siano consenzienti E allora accade che decisioni di grave spessore morale sono prese spesso spinti dall'emozione, dalla suggestione collettiva, dalla morale corrente Dalla mentalità intrisa di permissivismo, per cui tutto è bene, tutto è lecito Quindi si dice bando a tutte le inibizioni e i sensi di colpa Questi li predicano i preti è meglio lasciar perdere E se qualcuno osa avanzare qualche riserva su queste scelte viene subito etichettato come un oscurantista, bigotto, sessuofobo, medievale Ma proviamo a chiederci questo approccio alla sessualità È corretto che società sta producendo? È veramente umanizzante? Oppure è una ricerca del piacere per il piacere? E noi lo sappiamo Il piacere è una cosa stupenda, l'ha messo Dio Ma nell'uomo il piacere è buono, è bello quando porta alla gioia Se rimane solo il piacere, torniamo al preumano Tutti gli animali provano piacere L'uomo è caratterizzato dal fatto che prova il piacere bello, soddisfacente, umanizzante Quando si trova poi nella gioia, nella piena armonia con se stesso, con il creato, con i fratelli E anche con Dio Allora è la gioia Nel brano evangelico di oggi I farisei presentano a Gesù un problema della vita coniugale Oggi è un problema che si pone ancora di meno Perché già per decidersi a fare una famiglia richiede molto impegno E il piacere lo si prova anche senza impegnarsi in una famiglia Però c'è anche oggi l'alternativa che sentiamo spesso Divorzi o sì, divorzi o no E c'era anche al tempo di Gesù questo interrogativo È lecito o non è lecito rimandare la propria moglie? Naturalmente in Israele erano solo i mariti Allora è anche oggi che possono rimandare la propria sposa A Roma no Infatti Marco pone anche la proibizione alle donne di rimandare i loro mariti Perché a Roma lo potevano fare Ecco la domanda che è stata posta A Gesù direi che è molto attuale Sembra proprio la problematica di oggi E direi anche che soltanto chi risponde sì È ritenuto al passo con i tempi Chi invece solleva qualche obiezione Viene ritenuto un retrogrado E su questo argomento In genere le persone hanno già le loro convinzioni ben definite E non le vogliono rimettere in discussione Perché c'è questo arroccamento? Non si discute divorzi o sì, divorzi o no Ognuno ha le proprie convinzioni Perché si è così arroccati? La ragione è che la domanda Divorzi o sì, divorzi o no È posta male Prima bisogna chiarire la concezione che si ha Del rapporto uomo-donna e della sessualità Se questo non è chiaro è inutile discutere Vanno chiariti i punti di riferimento Altrimenti si parlano lingue diverse E nessuno è disposto a rimettere in discussione Le conclusioni a cui è giunto E Gesù infatti Non dà subito la risposta Perché se avesse risposto no Non cambiava nulla Gesù deve cambiare l'approccio che si ha Alla sessualità Per collocarlo in quello che è il disegno di Dio Perché? Se noi non mettiamo questi fondamenti Allora le scelte vengono fatte In base a ciò che mi piace Ciò che è comodo Ciò che fanno tutti Gesù invece vuole che le persone entrino Nel disegno di Dio Perché solo entrando in questo disegno Allora hanno e realizzano L'obiettivo per cui Dio ha fatto l'uomo Maschio e femmina Bene I farisei hanno posto questa domanda E Gesù risponde con una prima domanda Vuole fare uscire da loro Ciò che è giusto Ciò che è conforme all'umano Noi siamo fatti bene E se riflettiamo nel nostro profondo Ci viene fuori quello che è il disegno di Dio E chiede loro Che cosa vi ha ordinato Mosè Cosa c'è scritto nella Bibbia Ricordiamo qual era la situazione sociale del tempo Il divorzio era ammesso Tuttavia in Israele Nessuno ignorava le parole accorate del profeta Malachia Che parlando in nome di Dio Condanna il divorzio E anche i grandi rabbini Migliori rabbini Avevano delle perplessità Sul fatto che l'uomo potesse ripudiare la propria sposa Vi leggo il testo di Malachia Siamo nel 400 avanti Cristo Un'altra cosa fatte ancora oggi Sta facendo il profeta Malachia Una dura requisitoria Contro le malefate dei sacerdoti di Gerusalemme E a un certo punto dice Voi fate un'altra cosa Coprite di lacrime E di pianti E di sospiri L'altare del Signore Perché Egli non guarda più all'offerta Non l'accetta con benevolenza Dalle vostre mani E voi vi chiedete perché Ecco la risposta Perché il Signore è testimone Fra te E la donna della tua giovinezza Che tu tradisci Mentre lei E la tua compagna La donna Legata a te Da un patto Perché io detesto il ripudio Dice il Signore Dio di Israele La risposta Che danno I farisei Mosè ha permesso Di scrivere un atto di ripudio E di mandarla via Hanno risposto Che Mosè Ha permesso Di scrivere un atto di ripudio Gesù aveva fatto Una domanda diversa Non cosa ha permesso Mosè Perché Mosè Non ha permesso niente Mosè si è trovato Di fronte Alla pratica Del divorzio In cui gli uomini Mandavano via Le proprie mogli Non davano il libello Del ripudio Il Sefer Kiritut Che c'è ancora oggi E le donne Non avendo in mano Il Sefer Kiritut Se per caso Si rifacevano una vita Con un altro Venivano accusate Di adulterio Mosè Per proteggere Le donne Aveva stabilito Che chi rimanda La propria moglie Deve dargli Il Sefer Kiritut In modo che diventi libera E poi addirittura Proibisce di riprendersela Quindi devono pensarci bene Prima di rimandarla Mosè quindi Ha cercato di regolamentare Un comportamento Che già esisteva E gli uomini rimandavano Le proprie mogli Sullo sfondo Voi vedete Due Ketuvot Sono I documenti Che vengono firmati In cui Viene presentato Il contratto Fra lo sposo E la sposa Sono bellissime Queste Ketuvot Sono dei veri Inni alla vita Fiori Grappoli D'uva Anche Chagall Ne ha dipinte Alcune di queste Ketuvot Per degli sposi Proprio perché È un momento Di grande gioia Quello dell'amore Sponsale E benedetto Da Dio Vedete adesso Sullo sfondo Un'altra Ketuvot Un'altra Ketuvot E dall'altra parte C'è il Sefer Kiritut Cioè il libello Del ripudio Notate la differenza Mentre la Ketuvot È un'altra Ketuvot È un inno alla vita Fiori Grappoli D'uva Quell'altro È un freddo formulario Da riempire Lo si ritira Quando si va a chiedere Il divorzio E notate È scritto Non in ebraico Con la grafia Che si trova Nei codici della Torah È scritto In ebraico Corsivo Quello che si usa Oggi Perché La grafia sacra Non può essere usata Per il Sefer Kiritut Notate Come È freddo Quel testo E aggiungo anche L'ho cercato Un Sefer Kiritut Ho fatto fatica A trovarlo Proprio perché Il divorzio La separazione Una cosa Estremamente Dolorosa Che esce Dal disegno Di Dio I rabbini Più saggi Fra i rabbini Dicevano Che quando C'è una separazione Anche Dio Piange Adesso Basterà osservare L'ordine di Mosè Di consegnare Il Sefer Kiritut Per sentirsi In sintonia Con il disegno Di Dio Sulla sessualità Sentiamo la risposta Di Gesù Gesù disse loro Per la durezza Per la durezza del vostro cuore Egli scrisse per voi Questa norma Ma dall'inizio Della creazione Li fece Maschio E femmina Per questo L'uomo Lascerà Suo padre E sua madre E si unirà Sua moglie I due Diventeranno Una carne sola Così Non sono più due Ma una sola carne Dunque L'uomo Non divida Quello che Dio Ha congiunto L'obbligo Imposto da Mosè Di consegnare Il Sefer Kiritut Derivava Dalla durezza Di cuore Delle persone Cos'era Questa durezza Di cuore Era L'incapacità A comprendere E ad accogliere Nella vita Il progetto Del creatore Sulla sessualità E difatti Gesù Si appella adesso Al disegno Di Dio All'inizio Della creazione Dio li fece Maschio E femmina Riflettiamo Sul progetto Del creatore Perché Ha voluto L'umano Maschio E femmina Non è Che ha voluto Creare Un solo genere Tutti maschi Tutte femmine No C'è una realtà Biologica Della quale Dobbiamo scoprire Il senso Maschio E femmina Sono due Modi Di incarnare L'essere umano E questa La grande diversità Che noi Riscontriamo Nell'umano Di fronte ad essa Tutte le altre Sono marginali Belli Brutti Intelligenti O meno Bianchi O neri Cinesi O europei Sono Differenze Marginali Ma Nell'umano Noi abbiamo Una differenza Che è la Grande differenza Due modi Diversi Tutto complementare Perché ognuno Riconosca Nell'altro La parte Di cui ha bisogno Il testo sacro Dice Che La prima coppia Si tratta Naturalmente Di un linguaggio Mitico Dice che Erano nudi E non provavano Vergogna La nudità Nella Bibbia Indica La condizione Umana Quella nella quale Noi nasciamo E Questa Condizione In cui Dio ha voluto L'umano Quella Di Essere Incompleti Era La nudità Dell'uomo E gli uomini Non la consideravano Una sconfitta Non ne provavano Vergogna Era la loro Condizione La persona Equilibrata È felice Di avere Bisogno Dell'altro È felice Di non essere Autosufficiente Di essere Nella condizione Di aver bisogno Del complemento Di ciò Che gli manca Dio ci ha fatto bene Ci ha voluto Incompleti Per spingerci All'incontro Con il diverso Possiamo Autosufficienti Non avremmo Bisogno Dell'altro Invece Siamo fatti Per donare Amore E per ricevere Amore In parole Semplici Ci ha voluto Sessuati Per costringerci Ad amare A relazionarci Con chi ci può Arricchire E con chi A nostra volta Possiamo Arricchire Siamo fatti Per amare Fossimo Autosufficienti Non saremmo Stati fatti Per amare È per questo Che la prima Cosa Non buona Che noi troviamo Nella creazione È la solitudine Dell'uomo L'uomo È fatto Per relazionarsi E difatti Quando viene creata La donna La compagna Del maschio Della dam Dio dice Non è bene Che l'uomo Sia solo A questo punto Non confondiamo La sessualità Con la genitalità La sessualità È la pulsione Che ci spinge Ad andare incontro Al diverso da noi Per arricchirlo E per esserne arricchiti È l'amore Che nasce Dalla realizzazione Della sessualità E non è necessario Realizzare L'aspetto Della genitalità Per Realizzare La sessualità Gesù di Nazareth Ha realizzato Alla perfezione La sessualità Perché è stato Dono totale Ha amato Ed è stato amato La genitalità È un aspetto Che si realizza In un contesto Ben preciso Che è quello Dell'amore esponsale Che presuppone Un impegno D'amore Incondizionato Definitivo Fra due persone Da questa natura Dell'amore esponsale Gesù Trae la conclusione L'uomo Non divida Quello che Dio Ha congiunto Sullo sfondo Vedete di nuovo Due che tu voti E adesso C'è una parola ebraica Che vedete Comparire Composta da due lettere Soltanto Un ghimel E un tet E la parola ebraica È get Significa Divorzio Bene I rabbini Avevano notato Anzitutto Che questa parola Get Divorzio Non compare Nella Bibbia Non solo Ma in tutta La Bibbia Mai Queste due lettere Sono Si trovano Di seguito L'una all'altra Mai E nemmeno Una parola Termina con Ghimel E la seguente Inizia con Tet I rabbini Concludevano Questo dice Come Dio Non voglia Nemmeno sentire Parlare Del divorzio Non è una questione Di indissolubilità Intesa come Una norma Che blocca Per sempre Quando si ricorre Ai precetti Si sta denunciando Una sconfitta Dell'amore Ma è la scoperta Dell'intima Profonda Realtà Dell'amore Che per sua Natura Non può Morire Questo È il disegno Di Dio Sulla Sessualità Che include Anche la Genitalità Questa È una Partecipazione All'amore Del Signore Amore Capace Di resistere A qualunque Prova Ricordiamo Cosa dice Il cantico Dei cantici Le acque Del grande Mare Non possono Spegnere L'amore Nei fiumi Lo possono Travolgere È la logica Dell'amore Che per sua Natura È incondizionato Senza riserve Senza ripensamenti È la possibilità Di contare Sull'amore Dell'altro Senza timori Che venga Meno Senza incertezze Questo è il disegno Di Dio Sulla vita Di coppia Purtroppo C'è una bella Differenza Fra la formula Dell'amore Che noi sentiamo Oggi E la formula Dell'amore Progettato Da Dio Cosa intendono Oggi Le persone Che dicono Sono innamorato Di Significa Ti amo Ti voglio Per me Ti voglio Tutto Tutta Per me Ho bisogno Di te Per essere Felice E questo amore Che pensa a se stesso Solo all'arricchimento Che può ricevere E che tante volte È una strumentalizzazione Dell'altro Per il piacere Questo amore Può finire Quando non si ottiene più Quello che si cercava E allora si dice Non ci amiamo più Non ci siamo mai amati Non ci amiamo più Allora si cerca Un'altra persona Che può soddisfare Quel bisogno Di piacere Che uno cercava La formula Dell'amore Progettato Da Dio È diversa Ti amo Vuol dire Io sono disposto A tutto Anche a dare la vita Perché tu sia felice E questa disponibilità A prendermi cura Della tua felicità Ti assicuro Non verrà Mai meno Qualunque cosa Capiti Dal disegno Di Dio Esulano Quindi L'avventura Estraconiugale Proprio perché È un'avventura È un tradimento Dell'amore Che Impoverisce I protagonisti Esula dal disegno Di Dio Anche la semplice Convivenza E anche i rapporti Prematrimoniali Perché in essi Manca il coinvolgimento Pieno e definitivo Che è chiaramente Presupposto dal testo sacro Quando dice L'uomo Si unirà Alla sua sposa E i due Saranno una sola carne Il verbo greco Che viene impiegato è Kollaumai Che significa Un'unione definitiva Che non può essere rotta La conclusione Pastorale Che possiamo ottrarre Da queste parole di Gesù La sessualità Non è un gioco Costruire questo amore Secondo il disegno di Dio È un impegno arduo Per cui Vanno evitati L'impazienza La fretta Il darsi disordinato Che provocano sempre Drammi interiori Confusioni Situazioni insostenibili Anche se chi vi è coinvolto Si sforza Di ostentare Un'apparente felicità Facile O difficile Accogliere nella vita Questo disegno Di amore incondizionato Diciamo È impegnativo Difficile Anche per gli apostoli Accettare Questo disegno Del creatore Sentiamo La loro reazione A casa I discepoli Lo interrogavano Di nuovo Su questo argomento E disse loro Chi ripudia La propria moglie E ne sposa Un'altra Commette adulterio Verso di lei E se lei Ripudiato il marito Ne sposa un altro Commette adulterio Di fronte alla posizione Nitida Del maestro Non soltanto i farisei Ma anche i discepoli Sono rimasti Perplessi Quasi Sgomenti Gesù Gesù Li ha lasciati Sbalorditi Perché Loro avevano appreso Nella catechesi Dei rabbini Che il divorzio Non soltanto Era lecito Ma in certe situazioni Era anche doveroso Per esempio Quando la moglie Era sterile Bisognava dare Continuità Alla vita E quindi Dovevano Divorziare Per questo Che quando Rientrano in casa Interrogano Di nuovo Gesù Sull'argomento Gesù Ribadisce Ciò che aveva detto Il disegno Di Dio Non contempla Che l'uomo Si separi Con Gesù È giunto Nel mondo Il regno Di Dio Si sono compiute Le profezie Agli uomini Sono stati donati Un cuore nuovo E uno spirito Nuovo Per la durezza Del vostro cuore Mosè Ha dovuto Regolamentare Un comportamento Diffuso Che era quello Del divorzio Adesso Agli uomini È stato donato Un cuore nuovo Da loro È stato tolto Il cuore Di pietra È giunto Quindi Il momento Di dire Basta Compromessi Alle meschinità I sotterfugi Perché C'è l'invito A puntare All'ideale Che è quello Che ci viene indicato Nel progetto Del creatore Gesù Non ha imposto Una nuova legge Più severa Di quella Di Mosè No Ha solo Richiamato Il progetto Originario Di Dio Che non Contempla Il ripudio E adesso Entrano in scena Dei bambini C'entrano qualcosa Con l'argomento Che Gesù Sta trattando Gli presentavano Dei bambini Perché li toccasse Ma i discepoli Li rimproverarono Gesù Al vedere questo Si indignò E disse loro Lasciate che i bambini Vengano a me Non glielo impedite A chi è come loro Infatti Appartiene Il regno di Dio In verità Io vi dico Chi non accoglie Il regno di Dio Come lo accoglie Un bambino Non entrerà In esso E prendendoli Tra le braccia Li benediceva Imponendo le mani Su di loro Proviamo a riflettere Sulla situazione Attuale Il modo come Oggi Viene vissuta La sessualità Sappiamo tutti Che ci sono Delle situazioni In cui due coniugi Si chiedono Con ragione Se valga ancora La pena insistere Nel tentativo Di aggiustare Un rapporto Che forse È nato male E che si sta Rivelando Irrimediabilmente Vasto Non ci si ama più Ci sono delle Incompatibilità Di carattere Si arriva addirittura A farsi dei dispetti Si parla Solo per offendersi Anche i figli Vengono coinvolti In questi fallimenti In questi fallimenti Dei genitori Allora Ci si chiede Che senso ha Continuare insieme Può Dio esigere Che si protragga Una convivenza Che è un vero supplizio Non è meglio Che ognuno Se ne vada Per la propria strada E che si ricostruisca Una vita A queste domande La logica Degli uomini Risponde Senza esitazioni Meglio il divorzio E meglio È rifarsi La vita Direi che di fronte A questa realtà Che tutti noi Verifichiamo Oggi in modo particolare Più che in passato Forse il discorso Fa portato Alle origini Di queste scelte Perché si arriva A queste situazioni Non è forse Perché Ci si è accostati In un modo Banalizzante Alla sessualità Non si è riflettuto Non si è avuto Il coraggio Di progettare Una vita di coppia In modo molto impegnativo Ecco Potrebbe essere questa Una riflessione Che noi possiamo fare Un'altra conclusione A cui si arriva facilmente Riflettendo su ciò che accade Se tante coppie Si separano Dopo pochi anni Di matrimonio Non è preferibile La convivenza Così se le cose Non vanno bene Ci si lascia Senza troppi problemi Ecco In nessun campo Morale Come in quello Dell'etica sessuale L'uomo È tentato Di tirare Le proprie conclusioni Ecco allora La ragione Per cui L'evangelista Marco Introduce La scena Dei bambini È necessario Diventare Come bambini Per entrare Nel regno Dei cieli Non in paradiso Per entrare In questa logica Nuova Che è quella Che Gesù propone Per poter Comprendere La difficile Impegnativa Proposta Che Gesù fa Appellandosi Al disegno Di Dio È necessario Diventare piccoli Solo Chi si sente Piccolo Si fida Di qualcuno Che lo può guidare Che lo può illuminare Come fanno I bambini Che si fidano Dal loro padre Noi Siamo sempre posti Di fronte All'alternativa Di Adamo Seguire Quella Che è La proposta Di Dio Oppure Mangiare L'albero Della conoscenza Del bene Del male Cioè Decidere Lui Ciò che è bene E ciò che è male Essere autonomo Nelle scelte morali Non dipendere Da quello che è Il disegno Di Dio Anzi Non interrogarsi Nemmeno Su questo disegno Di Dio Perché questo accade Perché Soltanto Se io mi sento Piccolo E mi sento Amato Del padre Del cielo Io mi fido Di lui E mi chiedo Cosa mi suggerisce Lui Gli uomini Di oggi Dicono Non mi interessa Quello che Dio Pensa O quello che Dio Vuole Ammesso che esista Decido io Queste sono Le conseguenze Delle scelte Morali Dettate Dall'autosufficienza Nelle scelte Ecco la ragione Per cui Il brano evangelico Di oggi Ci introduce La scena Dei bambini È l'invito A sentirci Piccoli E a fidarci Del padre Del cielo Se vogliamo Costruire Una vita Autentica Se vogliamo Davvero Che la sessualità Si realizzi Nel dono Reciproco Di un amore Incondizionato La meta È certamente Altissima I passi Degli uomini Sono incerti E a questo punto Entra La pastorale Dio Conosce La fragilità Di ognuno Nessuno Può ergersi A giudice Delle scelte Che vengono fatte Dai propri fratelli Nessuno Ha il diritto Di valutare Colpe E pronunciare Condanne Alle situazioni Concrete Ci si deve Sempre accostare Con prudenza E ogni fratello Va capito Accompagnato Aiutato In modo Che possa Ottenere Il massimo Nella condizione In cui si trova O si è venuto A trovare Per colpa O non colpa Il fratello Va accompagnato Nella situazione Concreta Che sta vivendo Mostrarsi Comprensivi Pazienti Non significa Amorbidire Le esigenze Evangeliche O adeguarsi Alla morale Corrente E mostrare Saggezza E soprattutto E mostrare Amore E attenzione Alle persone Che stanno vivendo Situazioni Difficili E dolorose Auguro a tutti Una buona domenica E una buona settimana Grazie a tutti 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 Grazie a tutti